we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi un altro tip per le sfide della settimana numero 5 capitolo 2 di fortnite ci chiede di fare un ballo robot stark come si fa beh niente di più semplice ragazzi basta solamente che una volta che avete distrutto un robot e l'avete hackerato vi facciate insieme a lui un balletto o meglio il vostro personaggio faccia qualsiasi ballo e loro come vedete andranno a ripetere una robot stark dance e questo vi permetterà di avere quindi 25 mila punti esperienza e di portarvi a casa la sfida della settimana io vi ringrazio tanto per avere guardato questo video mi raccomando non dimenticate di lasciare un bel pollicione in su iscrivetevi ai miei canali e a me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao